Ancora urne aperte nei 26 comuni del Cilento e del Vallo di Diano, chiamati ad eleggere sindaco e consiglieri comunali. I seggi resteranno aperti fino alle 15, poi inizierà lo scrutinio delle schede. Come da disposizioni nazionali, è stato consentito anche agli elettori in isolamento per covid di poter esercitare il diritto al voto. Un seggio mobile, formato da medici e infermieri bardati, ha raggiunto i cittadini positivi al virus presso la struttura dove stanno trascorrendo la quarantena. Per via di questa disposizione, a Sessa Cilento si sta consumando un braccio di ferro tra un candidato consigliere comunale e il sindaco. Il primo lamenta che il comune non ha messo in condizione di votare tre elettori contagiati. Il primo cittadino uscente rispinge al mittente a ogni accusa, spiegando che le tre persone interessate non hanno presentato entro i termini stabiliti la dichiarazione che attestasse la volontà di votare. Una nota di colore arriva da Montesano sulla Marcellana. Domenica mattina ha fatto ingresso nel seggio della frazione Scalo una giovane sposa. Francesca Bianco, 30 anni, appena dopo la celebrazione del rito civile con lo sposo Michele Bucino di Monte San Giacomo, si è recata a votare e dopo aver espresso la sua preferenza è tornata a festeggiare. Tra i comuni impegnati in questa tornata elettorale, Vibonati, Santa Marina, Tortorella, Pollica, Castellabate, Ceraso, San Mauro, Labruca, Perdi Fumo, Teggiano, Montesano sulla Marcellana, Padula e Monte San Giacomo. Tre i candidati al sindaco a Vibonati, Giovanni Scognamiglio, Manuel Borrelli e Vincenzo Cernicchiaro. Tre anche a Santa Marina, Giovanni Fortunato, Vincenzo Castaldo e Paola Tangredi. Due in corsa per la fascia tricolore a Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi e Rosa Domenica Campiglia e a Padula, Michela Cimino e Dario Mario Tepedino. Alle 15 la chiusura delle urne. Alle 16 sulla nostra emittente inizierà lo speciale elezioni che seguirà le operazioni di scrutinio fino all'elezione dei nuovi sindaci del Cilento e del Vallo di Diano.